Buongiorno, aspettiamo qualche secondo o qualche minuto che i partecipanti entrino nel webinar e poi daremo avvio all'evento. Grazie. Buongiorno, buongiorno al relatore, buongiorno ai presenti. Io sono Sara Ranieri, lavoro in Innova Camera, l'azienda che organizza Maker Faire Roma, PID, il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Roma, il cui obiettivo è quello di diffondere e promuovere lo sviluppo dell'innovazione. Nell'ambito di questo progetto è stato organizzato un ciclo di otto seminari dal titolo Maker Faire Academy, di cui quello che stiamo per avviare è il secondo webinar, realizzato in collaborazione con Lazio Innova, la Regione Lazio. Oggi vi do il benvenuto all'evento Il futuro dello spazio, durante il quale Raffaele Mauro, il relatore, co-founder e general partner di Primo Space, fondo di venture capital specializzato nella New Space Economy, nelle tecnologie correlate, ci racconterà come una nuova generazione di imprenditori, scienziati e astronauti sta cambiando la presenza umana nello spazio. A questo punto non mi resta che lasciare la parola al relatore e do quindi l'auguro a tutti voi e al relatore Raffaele Mauro un buon lavoro. Grazie innanzitutto per l'invito a questa bella iniziativa. Appunto, di cosa mi occupo? Io faccio un mestiere molto particolare, perché è l'intersezione tra due nicchie. Da un lato il venture capital. Il venture capital è un particolare ramo della finanza che si occupa di investire in imprese ad alta tecnologia, ad alta crescita e ad alto rischio. Tipicamente imprese che sono nella prima fase del loro ciclo di vita. Quindi immaginate i servizi che usate ogni giorno, da Facebook, Instagram o il computer Apple o fare una ricerca su Google. Bene, tutte queste aziende non sarebbero nate o non sarebbero cresciute con la stessa velocità senza questa particolare nicchia della finanza chiamata venture capital che è specializzata nel supportarle. Però appunto mi occupo di questa forma di capitale di rischio su un ambito molto particolare che è lo spazio. Infatti oggi parliamo proprio di space economy e come negli ultimi anni si è evoluta, si è trasformata l'economia legata allo spazio e quali prospettive si, diciamo, si prospettano in questi giorni. Tra poco utilizzerò anche delle slide, più che altro per dare anche un sottofondo visivo a quello che racconterò. Però non vorrei rendere la mia discussione troppo lineare, quindi sentitevi libere di interrompermi, di fare domande e di creare una discussione all'interno di questo incontro. Allora, parto con la condivisione dello schermo e ditemi pure se mi confermate che è tutto ok. Lo posso confermare io? È tutto ok. Grazie. Allora, non fatevi spaventare della lingua inglese, parlerò ovviamente in italiano e come dicevo, tutto quello che verrà detto potete chiedere domande, fare interventi o approfondire. Allora, perché si parla di new space economy? Perché negli ultimi anni è avvenuto un cambiamento molto importante, nel senso che noi abbiamo una componente molto visibile dello spazio, che è quella legata agli astronauti. Qui ovviamente c'è ritratta la nostra Samantha Cristoforetti. Noi abbiamo avuto quasi 600 astronauti che sono andati nello spazio dall'inizio di questa era tecnologica fino ad oggi. Questo numero sta avendo un incremento molto rapido, perché il fatto che ci sia stata un'apertura anche al settore commerciale sta portando molte più persone ad andare nello spazio, con una serie di record. In questo momento il record di lunghezza è stato di 438 giorni, la persona più giovane è di 18 anni, la più anziana è di 90 anni, 24 sono andati oltre l'orbita terrestre e 12 sono andati verso la Luna. Tutti questi numeri cambieranno e si incrementeranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Tra l'altro anche gli esseri umani torneranno sulla Luna probabilmente da 2025 in poi. Bene. E qual è stato un cambiamento molto profondo degli ultimi tempi? Il fatto che storicamente noi associamo lo spazio a ciò che fanno i governi, ai grandi programmi legati a agenzie spaziali e ricerca governativa. Cosa che è ancora vero, però c'è stato un cambiamento profondo, ovvero l'ingresso del settore privato. Oggi c'è un'ondata di imprenditrici, imprenditori, start-up che stanno cambiando questo settore e lo stanno modificando dal basso. E questa è una cosa molto interessante e che sta provocando e provocherà dei cambiamenti veramente importanti. In particolare negli ultimi anni si è creata un'economia anche appunto di settore privato, di natura commerciale legata allo spazio che viene chiamata Space Economy, che appunto è grande, circa 400 miliardi di dollari, poi ci sono diverse tipologie di stime, ed è un po' come internet 30 o 35 anni fa. C'è qualcosa che sta passando dall'underground a qualcosa che si connette molto con le nostre vite. Già sta accadendo perché voi ogni volta che aprite uno smartphone o spesso quando utilizzate televisione o guardate le previsioni del medio, chiaramente utilizzate in modo indiretto infrastruttura legata allo spazio. Ogni volta che fate un acquisto con un'app di delivery per il cibo state usando tecnologie di posizionamento che sono legate allo spazio. Ma c'è molto altro. Quindi questa è la cosa che si sta muovendo. Partiamo dalle cose più concrete o da ciò che è più materiale, da quello che in gergo viene chiamato l'upstream. L'upstream è ciò che va su, è il ferro, ok? O il ferro, diciamo, la materialità della space economy. Innanzitutto su questa componente l'Italia ha delle cose interessanti, nel senso che in Italia si producono dei cosiddetti lanciatori, cioè razzi come quello che vedete che è il Vega, e moduli pressurizzati e altre componenti importanti che fanno parte di questa economia. Quindi l'Italia è un paese che non ha un ruolo secondario, un ruolo importante in questo ambito. Si possono fare cose importanti, ci sono diverse grandi aziende. L'altro elemento che possiamo citare su questo è la riduzione dei costi di lancio. Questo ve la dico molto concretamente. Se voi per andare da Roma a Milano dovete spendere un milione di euro, probabilmente farete quel viaggio mai o molto raramente. Ed è quello che accadeva nello spazio fino a poco fa, nel senso che il costo per chilogrammo per portare persone o cose in orbita, era qualcosa di molto alto, pari appunto a centinaia di migliaia di euro o di dollari. Bene, questa cosa si sta modificando, si sta abbassando. E c'è quella che viene chiamata una sorta di legge di Moore, quello che avete visto anche nell'informatica. I computer erano grandi, costosi e lenti decenni fa. Oggi li abbiamo nelle nostre task, che sono veloci, relativamente troppo costosi e sempre più performanti. Quindi oggi portare cose e persone nello spazio, specialmente cose, costa sempre di meno e chiaramente si crea un'accessibilità. È possibile fare più esperimenti, più soggetti possono lavorare in questo ambito. Un esempio appunto è la creazione di nuove tipologie di lanciatori, cioè di oggetti che possono trasportare cose e persone nello spazio. In particolare il cambiamento veramente importante è questa immagine che vi faccio vedere ed è relativa ai lanciatori riutilizzabili. Il fatto che oggi sia possibile fare in modo che fare in modo di riciclare e di riutilizzare anche solo per poche volte un lanciatore è veramente qualcosa di rivoluzionario. Era qualcosa che molti pensavano fosse impossibile solo fino a pochi anni fa. Qui vedete una famosa immagine distribuita da SpaceX. Ora anche altre aziende stanno cercando di fare cose simili, ma oggi questa cosa può veramente abbattere i costi e rendere differente l'accesso allo spazio. Questo perché? Perché se voi dovete prendere il treno, la macchina, l'aereo per andare da Roma a Milano e ogni volta, immaginate che ogni volta dobbiate buttare l'aereo, la macchina o il treno, il costo sarebbe esorbitante ed è quello che accadeva in questo ambito fino a pochi anni fa. Oggi il fatto di poter riutilizzare un razzo anche solo 8, 9, 10 volte cambia, come potete immaginare, il costo di fare questa operazione in modo drammatico. Un altro paio di nozioni sull'ambito di ciò che va su, chiaramente una cosa molto importante da ricordare è la Stazione Spaziale Internazionale. È un progetto veramente magnifico perché appunto da 22 anni circa 21 anni abbiamo esseri umani in modo continuativo nello spazio. Questo è stato un grande progetto internazionale frutto, diciamo, del superamento della guerra fredda con Stati Uniti, Europa, Russia, Canada, Giappone e altri con costantemente diversi esseri umani nello spazio. Potremmo dire che assieme al CERN di Ginevra e altre megastrutture è uno dei più grandi progetti ingegneristici e scientifici ma realizzati. Purtroppo è un tipo di ERA che forse giunge verso il termine perché questo tipo di grandi collaborazioni internazionali con l'avvento anche della crisi tra, diciamo, attuale con la Russia e poi anche la frattura geopolitica con la Cina saranno sempre più difficili da effettuare in futuro. Un altro tema interessante è che oggi abbiamo delle nuove generazioni di veicoli, di navicelle con cui è possibile portare gli esseri umani nello spazio. Fino a circa dieci anni fa almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti il vettore principale era lo Space Shuttle questa specie di nave simile a un aereo capace di atterrare anzi, precisamente capace di atterrare come se fosse un aereo e poi appunto dopo il suo pensionamento perché era molto costosa e molto complessa si andava prevalentemente con le russe Solus. Oggi abbiamo invece una nuova generazione di veicoli in cui possono entrare gli esseri umani quella che avete visto forse negli ultimi mesi più frequentemente la Crew Dragon di SpaceX che è appunto molto interessante e ce ne sono anche altre. Se invece parliamo del livello commerciale l'oggetto più utilizzato è il satellite ovvero un insieme di tecnologia che viene spedito tipicamente in alcune orbite che sono utili per il loro utilizzo e con un numero che è interessante perché sono stati lanciati dal 57 fino ad oggi 12.000 satelliti ma pensate che di questi 12.000 1.800 solo l'anno scorso quindi c'è un'accelerazione fortissima di questo settore che poi è quello che tocca di più la nostra vita quotidiana perché è utile appunto per telecomunicazioni cerca scientifica, osservazione della Terra e così via. Di questi 12.000 8.000 sono ancora in orbita e circa 5.000 sono operativi. anche qui come per i sistemi di lancio c'è una legge di Moore anche qui vediamo sempre di più gli smartphone dello spazio nel senso che i satelliti prima erano grandi pesavano tonnellate e costavano milioni di dollari mentre oggi sono sempre più piccoli e l'esempio diciamo archetipico è il CubeSat quindi un piccolo modulo che pesa poco più di un chilo a 10 centimetri di lato e a costo molto basso che spesso viene lanciato in moduli quindi è un po' come dei mattoncini Lego tu ne puoi agganciare due o tre capito e crea un sistema modulare e sono spesso lanciati anche in costellazioni quindi tu ne hai tanti ne lanci 40 alla volta costruisci una costellazione di 40, 50, 100 di questi e realizzi il tuo obiettivo e perché tutto ciò è importante? perché le applicazioni a terra quello che in gergo viene chiamato anche l'ambito downstream sono sempre più importanti sono sempre più utili per noi per tante industrie per esempio per l'agricoltura per la logistica per l'internet of things per la lotta al cambiamento climatico ma vediamo qualche esempio di queste tecnologie un esempio diciamo storico riguarda le telecomunicazioni di fatto per televisione telefonia radio amatoriale radio commerciale accesso a internet le telecomunicazioni sono sempre state uno degli ambienti fondamentali in cui operavano i satelliti ma qual è il cambiamento che è avvenuto negli ultimi anni è che l'infrastruttura spaziale si sta fondendo con l'infrastruttura di internet come sapete oggi internet è uno dei mercati più importanti al mondo le varie amazon facebook google e così via sono tra le aziende che hanno una capitalizzazione in borsa il valore maggiore al mondo e impattano la nostra vita in modo continuativo bene l'infrastruttura di internet si sta fondendo con l'infrastruttura spaziale tutte le principali aziende di internet stanno investendo nell'ambito spazio e soprattutto anche vedete con anche il progetto Starlink di Elon Musk che è una rete molto ampia di satelliti per l'accesso a internet sarà possibile anche bypassare saltare i metodi tradizionali con cui si accede a internet quindi qualcosa molto utile per esempio in zone di conflitto come in Ucraina in questo momento una seconda applicazione molto importante è l'osservazione e la mappatura della Terra è quello che fate tutti voi quando aprite Google Maps e cercate di vedere anche un po' le immagini satellitari bene questa cosa di osservare la Terra ha veramente molteplici applicazioni viene usata appunto per tutto ciò che riguarda l'irrigazione l'agricoltura la navigazione la meteorologia e tante altre cose ovviamente ha anche applicazioni di natura non civile ma anche militare perché una delle forme di satelliti di tecnologia satellitare più antica è appunto quella dei satelliti spia cioè il fatto di cercare di osservare i propri avversari dallo spazio terza cosa in parte correlata navigazione posizionamento e logistica esistono dei sistemi quello che usiamo tutti quanti ogni giorno è il GPS col nostro cellulare ma ce ne sono anche altri alternativi in particolare quello europeo chiamato Galileo che sono in costruzione sono già stati realizzati per poter appunto in modo sempre più preciso identificare la posizione di persone o cose e aiutarli nella navigazione sulla terra io sto facendo una carrellata di idee chiaramente se avete domande o curiosità interrompetemi pure salto un attimo la parte di puramente scientifica e enfatizzerei due cose potremmo dire un aspetto positivo e un aspetto negativo della spesa economy nel senso c'è un aspetto positivo secondo me molto forte che è quello relativa agli impatti sociali e ambientali innanzitutto c'è un grande volume di spin off cioè di ricadute a terra della ricerca tecnologica per lo spazio che poi vanno a finire anche in tecnologie civili questo è veramente interessante la seconda cosa è che per combattere il cambiamento climatico e combattere anche prevenire disazioni naturali e favorire la tutela dell'ambiente la tecnologia spaziale è tra quelle più più importanti perché puoi ottenere dati che altrimenti avresti grandi difficoltà nell'ottenere e chiaramente puoi vedere i sistemi della terra gli oceani le foreste i sistemi atmosferici in modo completo e diverso e inoltre è anche un settore che spinge molto l'istruzione la ricerca stimola le persone a studiare anche materie scientifiche che ovviamente è una cosa positiva c'è però anche potremmo dire un lato diverso è il fatto che chiaramente lo spazio è anche utile per la guerra ci sono diverse tipologie di interazione potremmo categorizzarle in tre ambiti una è quella di terra verso spazio esistono oggi dei satelliti dei missili antisatellite che vengono sviluppati dalle principali potenze mondiali quindi Stati Uniti Cina India Russia che hanno appunto servono a distruggere satelliti nemici quando sono diciamo in un contesto in cui vogliono ridurre le capacità di comunicazione contro comando e controllo e di osservazione della terra degli avversari poi ci sono tendenzialmente tecnologie spazio su spazio in particolare per l'osservazione di missili balistici o per la guerra elettronica quindi per hackerare potremmo dire i satelliti avversari e infine le tecnologie che vanno da spazio verso terra quella molto utilizzata che è quella di sorveglianza e poi in futuro eventualmente armi che dallo spazio possano colpire la terra però diciamo questo è più fantascienza in questa fase storica un'altra cosa interessante da raccontare è lo spazio come meta industria cioè come ambiente in cui altre industrie altre specializzazioni vanno a a fare cosa prendo due esempi e tra l'altro nel fatto ho visto una domanda che è arrivata poi risponderò anche a questa domanda infatti volevo dire questa cosa ma si è stata vista a post allora facciamo così rispondo subito alla domanda allora la domanda è la leggo allora scusa se non la riesco a visualizzare può leggere lei Sara per favore è in muto sei in muto chiedo scusa chiedo scusa buongiorno dottor Marlo potrebbe fare un po' più di esempi concreti di servizi a valore aggiunto generati dai dati acquisiti con tecnologie di earth observation grazie certo allora c'è un ambito per esempio che ho già citato che secondo me è molto bello che è quello dell'agricoltura cioè tu per esempio puoi raccogliere dati sullo stato delle culture lo stato dell'irrigazione alcune caratteristiche chimico-fisiche dei terreni tramite tecnologie satellitare spesso combinandola anche con altre forme di osservazione per esempio con droni e sensori che sono a terra e migliorare molto il rendimento dei sistemi agricoli e favorirne insomma lo sviluppo questo è un esempio molto bello altri esempi sono per esempio legati in modo simile come dicevo alla protezione dell'ambiente degli oceani tu puoi misurare per esempio alcune forme di inquinamento puoi favorire la diciamo diagnosi iniziale di eventuali catastrofi naturali puoi fare molte cose che sono relative all'interazione tra ambiente ed esseri umani un'altra applicazione un altro ambito diverso invece di applicazione per esempio il monitoraggio delle infrastrutture cioè il fatto che tu dallo spazio puoi controllare lo stato di alcune reti come per esempio reti legate all'energia all'approvvigionamento di gas petrolio o infrastrutture diciamo civili che può essere utile vedere in modo diverso dallo spazio nella loro evoluzione un altro ambito molto curioso anche qui molto diverso è l'archeologia ci sono adesso c'è una nicchia di archeologi che si sta specializzando nel trovare tracce di città edifici e in generale strutture umane costruite migliaia di anni fa tramite le immagini satellitari perché tu con questa visione dall'alto riesci a percepire cose che da terra hai molta più difficoltà nel percepire quindi questi sono tre esempi che potrei citare poi chiaramente ce ne sono ce ne sono anche altri torno sul flusso di conversazione dicevo lo spazio ha questa cosa che è un ambiente anche che incrocia e va a ricombinare altre industrie ne cito due la prima è la tematica di robotica e intelligenza artificiale cioè così come a terra l'intelligenza artificiale è sempre più utile per tante applicazioni che noi utilizziamo cioè da quando tu riconosci un volto su facebook quando fai il tag fino alle auto a guida autonoma anche nello spazio l'automazione è sempre più importante per il supporto agli astronauti per la navigazione per i trasporti e così via questo è un caso interessante di interazione un secondo caso interessante di interazione invece è l'aspetto legato alle scienze della vita alle scienze biomediche in particolare il fatto che ci sono potremmo dire due aspetti fondamentali il primo è che tu puoi portare persone in condizioni estreme come appunto gli astronauti e quindi devi sviluppare tecnologie che servono a questo e a cui di queste riportarle a terra quindi esistono tecnologie di riabilitazione tecnologie ortopediche di stimolazione muscolare di medical imaging che sono diciamo state sviluppate per lo spazio e poi hanno avuto un'applicazione a terra e questa è una cosa che è sempre stata vera anche in passato se oggi noi ci possiamo fare una una PET una tomografia di emissioni di positronio una risonanza magnetica deriva anche da ricerche di fisica nucleare fatte insomma fisica subatomica fatte a volte anche persino un secolo fa e l'altra cosa l'altra dimensione è quella invece della farmaceutica e di scienze della vita per cui tu puoi portare in condizioni molto particolari di microgravità o di vuoto o quasi alcune culture batteriche alcune molecole e studiarne l'evoluzione per capirne le proprietà quindi diciamo c'è un ricaduto molto importante da questo punto di vista un altro tema che vorrei aprire adesso che secondo me è molto bello e affascinante è quello delle start up nel senso che noi abbiamo tipicamente storicamente abbiamo avuto tutta una serie di grandi aziende che hanno operato nell'ambito dello spazio che sono tuttora estremamente rilevanti ne abbiamo alcune anche in Italia come Leonardo tale Salenia e così via ma c'è un'altra dinamica che si è avviata nell'ultimo decennio in particolare quella legata al mondo delle start up quindi cosa fanno queste start up prendono ogni segmento del settore spaziale e cercano di renderlo più intelligente più veloce più economico più accessibile la stessa cosa sta accadendo anche in altri ambiti se voi guardate per esempio la finanza la stessa cosa sta accadendo in finanza cioè tutta una serie di start up cercano di rendere la finanza meno costosa più veloce più semplice più accessibile la stessa cosa su come ordinare il cibo e tanti altri ambiti chi c'è dietro queste start up degli astro imprenditori potremmo definirli così cioè quelli che stanno un po' lanciando l'era dell'imprenditoria spaziale questo team che vedete qui per esempio è il team di Made in Space che è una società che avevo conosciuto circa una decina di anni fa li avevo conosciuti in Silicon Valley e appunto loro cosa hanno costruito hanno hackerato delle stampanti 3D quindi un tema molto rilevante anche per le cose di cui si occupa la Maker Faire per farle operare però in condizioni di microgravità quindi vedete questo non sono nello spazio sono su una una specie di aereo che con manovra di navigazione simula il fatto di andare a condizioni di gravità differenti in realtà diciamo questo è dovuto alla proprietà del viaggio però appunto poi queste stampanti sono andate proprio nella stazione spaziale internazionale e perché è importante perché tu poi devi poter fare queste cose anche in orbita poi ne parliamo con più calma cosa fanno questi imprenditori quindi tipicamente portano una logica differente nell'ambito dello spazio quindi metodi di produzione a basso costo metodi di prototipazione metodologie cosiddette agili o agile appunto stampa 3D e così via l'altra cosa interessante è che si finanziano spesso in modo diverso e quindi utilizzano anche a volte il venture capital o altre diverse forze di finanziamento per 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 operare vedo nel frattempo che è arrivata un'altra domanda da Luca Salerno quindi rispondo alla domanda la leggo se posso un'altra domanda le vorrei chiedere per quanto riguarda invece gli esperimenti di biologia medici farmaceutici eseguiti in condizioni di micogravità quali sono i vantaggi rispetto a quelli svolti in condizioni terrestre e che genere di attrazione commerciale possono ricevere allora torno un attimo alla slide precedente allora qualche esempio sono non so esperimenti relativi alla crescita di colture batteriche o all'avvolgimento delle proteine o a misurare per esempio quella che è la lunga permanenza nello spazio nel corpo umano quali sono gli effetti quindi se per esempio ci sono effetti sulle ossa sul sistema immunitario e così via tipicamente questo avviene un po' come per l'ingegneria tu per capire il funzionamento di un manufatto lo porti in condizione estrema vedi dove sono i limiti e se lo porti in condizione di stress per vedere quali sono gli effetti la stessa cosa accade potremmo dire in condizione di micro gravità vedi se queste molecole o questi sistemi vitali sistemi biologici perdon si comportano in modo diverso quali sono un po' i loro limiti e se magari appunto un'assenza di gravità o perdono una micro gravità li rende diversi questo può essere molto utile per faccio un esempio concreto se in futuro vogliamo fare viaggi di lunga durata come per esempio quello verso Marte che durerà anni tra andate e ritorno o costruire basi sulla Luna chiaramente è molto importante capire se sarà possibile se questa cosa è sicura per gli esseri umani se sarà possibile coltivare piante e poi appunto per quanto riguarda gli esperimenti microbiologici e farmacologici capire se puoi portare a casa della conoscenza sulla proprietà biochimiche degli oggetti che tu studi per poter disegnare con i farmaci per poter capire meglio le malattie e così via questo è un po' il tipo di risposta che dare a questa domanda allora torno sul tema degli astroimprenditori faccio qualche esempio italiano allora per esempio a Torino c'è un gruppo di studenti del Politecnico di Torino che ha il dottor Andi che ha creato una società chiamata AICO loro fanno intelligenza artificiale per lo spazio cosa molto molto carina e in particolare per due cose per la navigazione satellitare e per il riconoscimento di caratteristiche nelle immagini raccolte dai satelliti un po' come accade appunto su tante applicazioni che usiamo su internet faccio un altro esempio italiano vicino a Como c'è questa startup chiamata LeapSpace loro cosa fanno? Fanno le ground station cioè dei sistemi di antenne a terra che comunicano con i satelliti e in particolare lo fanno con i satelliti diciamo di piccola dimensione quelli di cui abbiamo parlato prima e lo fanno con un modello ad abbonamento esa service un po' come quelli anche qui prendendo spunto da quello che accade su internet faccio qualche altro esempio italiano c'è una società chiamata The Orbit che è quella che forse avete sentito nominare nelle notizie ultimamente The Orbit è una società che sta avendo un grande successo a 150 dipendenti ma io li ho conosciuti anche loro dall'inizio e anche loro erano una startup cioè inizialmente dieci anni fa era solo un'idea e oggi è diventata una grande azienda un'azienda importante che ha raggiunto una valutazione almeno un paper di circa un miliardo di dollari quindi viene giudicata un cosiddetto unicorno nel mondo delle startup raggiungere questo tipo di traguardo è considerato una delle cose più importanti e in Italia sono poche ed è bello che ce ne sia una di questo tipo faccio un altro esempio da un team che sto seguendo questi sono i ragazzi di Sidereus napoletani no so tra alcuni di Napoli alcuni veneti e stanno costruendo delle nuove tipologie di razzi di piccole dimensioni chiamati Virgilio perdono Caronte Virgilio e Beatrice su ispirazione diciamo così dantesca e come potete vedere anche da questa foto sono molto giovani hanno letteralmente vent'anni cioè il fondatore che quello al centro sulla sinistra Mattia Brava Rossa ha vent'anni quindi la cosa interessante è che appunto ci sono persone che anche in giovanità riescono a fare cose molto ambiziose e molto particolari altro spunto di carrerata sulle startup c'è questa startup americana chiamata Axiom Space che sta realizzando delle stazioni spaziali private la cito perché anche se americana però sta facendo alcuni di queste di questi moduli verranno prodotti in Italia e quindi è bello sapere che anche cose molto ambiziosi hanno una radice anche nel nostro nel nostro paese allora qualche altra considerazione sul tema di cui oggi tutti parlano che è quello dei baroni dello spazio cioè individui molto noti come Jeff Bezos di Amazon Richard Bernson di Virgin o Elon Musk di SpaceX cioè persone che hanno fatto fortuna in altri ambiti e che poi hanno intuito prima degli altri che ci fosse un potenziale nelle comune dello spazio hanno lanciato delle imprese in questo settore le cito rapidamente in particolare c'è Bezos con Blue Origin che appunto sviluppa sistemi di lancio come avete visto qualche mesi fa hanno fatto anche dei voli dei voli interessanti e chiaramente loro vogliono posizionarsi sul tema del turismo spaziale e portare turisti privati paganti spazio poi c'è Virgin Galactic di Richard Branson anche loro hanno fatto dei voli alcuni mesi fa che hanno avuto risonanza mediatica lo scorso luglio e loro fanno qualcosa che è un po' diverso rispetto a quello che fanno Musk e Bezos è un po' se quello che fanno Musk e Bezos diciamo è l'automobile Virgin fa la bicicletta quindi è un tipo di vettore che costa meno ma diciamo ha una portata minore e infine c'è SpaceX che di fatto sta sviluppando diverse tipologie di tecnologia ha una valutazione molto grande di fatto quasi 10.000 dipendenti e appunto produce sia i cargo per gli esseri umani sia nuove tipologie di razzi e sia diciamo questo oggetto molto grande che è la Starship che tra l'altro qui vedete in un prototipo in realtà la dimensione reale è molto più grande che potenzialmente sarà la tipologia di lanciatore che potrebbe portare gli esseri umani su Marte se mai ci andremo in futuro salto la parte sul venture capital dato che potrebbe essere meno interessante per voi però il messaggio chiave è che i principali fondi di investimento stanno posizionando delle scommesse molto importanti nello spazio è quello che diciamo anche il mio lavoro quotidiano però diciamo non mi dilungo su questo dato che potrebbe essere meno interessante un tema probabilmente da citare è il fatto che c'è oggi sempre di più un po' un scontro di astropolitica nel senso che la geopolitica dello spazio è stata nei decenni passati molto accesa e molto rilevante in particolare tutti conosciamo la corsa allo spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti che porto appunto prima Gagarin per i russi nello spazio e poi diciamo gli americani che sono andati prima sulla Luna nel 69 quindi tipicamente perché questo è stato rilevante uno perché c'è un'applicazione proprio diretta di tecnologia spaziale in ambito militare come abbiamo già detto ma anche perché raggiungere prima alcuni traguardi anche se non hanno un obiettivo politico ed economico diretto è un po' un indicatore di forza e dimostra che la tua nazione o il tuo blocco geopolitico ha delle capacità che altri non hanno e infatti questa cosa si sta un po' ripetendo anche oggi c'è una competizione molto forte oggi è una nuova corsa allo spazio di fatto tant'è che gli Stati Uniti hanno creato di fatto un'intera forza armata legata allo spazio quindi c'è oltre a esercito marina e aeronautica hanno la Space Force con una catena di comando separata miliardi di dollari di budget 16.000 persone e anche un po' di potremmo dire di strizzatine d'occhio alla comunicazione mentre non so i membri dell'esercito si chiamano soldati quelli del della marina marinai i marines i membri della Space Force si chiamano guardians un po' strizzando l'occhio ai fumetti e ai film che obiettivo la Space Force di appunto creare conoscenza raccogliere informazioni sull'ambito spaziale proteggere i propri asset presenti in quel territorio in quell'ambiente e poi proiettare forze anche capacità di combattimento nello spazio forse forse qualcuno l'avrà visto c'è anche una parodia su Netflix che è uno show chiamato Space Force che diciamo ridicolizza un po' questa cosa l'altra cosa importante è che la Cina sta avendo un grande accelerazione in questo ambito di fatto oggi abbiamo due stazioni spaziali o quasi in orbita c'è anche appunto la Tiangong cinese e la Cina ha un piano molto ambizioso di esplorazione lunare che andrà avanti nei prossimi anni qualche considerazione finale su cosa può accadere su alcune cose che accadranno in futuro allora una prima tematica molto discussa è quella del turismo spaziale quindi il fatto che esseri umani possano andare nello spazio pagando era già successo in passato quindi non è una cosa nuova solo che i ticket erano molto alti queste foto sono quelle legate al passato le nuove fatte da Virgin Galactic e SpaceX sono un po' più sexy sono fatte meglio diciamo però il concetto è che sempre più persone potrebbero potenzialmente accedere allo spazio pur non essendo astronauti di professione e si sta creando una microindustria attorno a questo non sapremo quanto sarà grande questa industria perché comunque i rischi sono elevati e chiaramente se ci fosse un incidente ci sarebbero rallentamenti importanti però c'è questo potenziale che potrebbe manifestarsi altra cosa interessante qui c'è un'altra foto con Samantha Christoforetti del space manufacturing cioè il fatto che tu potenzialmente puoi costruire o comporre cose direttamente in orbita questo perché perché se hai bisogno di un componente farselo spedire da terra costa molto poterlo fabbricare direttamente o far crescere direttamente in orbita è una cosa interessante e infatti appunto in questa foto c'è stamata Christoforetti che sta armeggiando con delle stampanti 3D fatte apposta per la stazione spaziale internazionale anche qui c'è un tema che può essere di interesse per un contesto come la Maker Faire andando ancora un po' più di fantascienza lo space mining quindi la possibilità di estrarre risorse da asteroidi o da diciamo torpi celesti forse qualcuno l'avrà visto su un film anche qui un po' ironico che è uscito su Netflix qualche mese fa Don't Look Up però il concetto è che effettivamente ci sono risorse interessanti in questo tipo di oggetti che potrebbero essere utili se uno volesse sviluppare un'economia indipendente nello spazio però è qualcosa oggi di molto lontano che non accadrà domani e altre cose che abbiamo citato sono più verosimili un'altra cosa è l'esplorazione lunare e mi avvio verso la conclusione l'esplorazione lunare oggi è di nuovo concreta nel senso che c'è un programma chiamato Artemis che è una collaborazione internazionale molto importante che fa partire le missioni di test già nella fase che stiamo vedendo oggi e che potrebbe dovrebbe riportare nel 2025 di nuovo gli esseri umani sulla luna e anche le prime donne quindi questa cosa è molto bella molto importante e secondo me catalizzerà un sacco di attenzione ci sono anche altri programmi di esplorazione lunare da parte di altri paesi molto molto attivi e poi c'è Marte Marte è una grande incognita perché se ne parla molto chiaramente Musk lo cita frequentemente ma è un obiettivo veramente ambizioso molto complesso molto costoso e molto rischioso quindi che non ha una ragione economica immediata però potrebbe diventare effettivamente nel nostro arco di esistenza qualcosa di fattibile non sappiamo se si farà ma potrebbe potrebbe essere qualcosa di fattibile diciamo andare effettivamente su un altro pianeta sarebbe una una un obiettivo storico entusiasmante e veramente affascinante è però qualcosa che richiede tanto tempo tanti sforzi tanti rischi chiaramente chi lo farà avrà gloria eterna però anche si assumerà dei rischi enormi qualche nota finale su come approfondire i temi di cui abbiamo parlato oggi allora se qualcuno di voi volesse andare su TikTok Instagram Twitter e così via ci sono dei influencer dedicati allo spazio a destra c'è Adrian Fartade che è molto bravo e posta molto frequentemente in italiano anche e poi quella sulla sinistra si chiama Kelly Gerardi sono solo due esempi ma nemmo potete trovare altri a cui un po' ispirarsi c'è anche un blog fatto molto bene che è Astrospace secondo me il migliore in Italia anche loro sono attivi molto su Facebook su Instagram su Twitter e fanno degli articoli divulgativi però fatti veramente bene che vi consiglio di esplorare poi ci sono tanti libri che stanno uscendo qua ne ho alcuni in inglese ma ne stanno uscendo anche diversi in italiano ne pubblicherò anche uno io stesso tra due mesi che uscirà con Lewis University Press si chiamerà I cancelli del cielo ma se andate in libreria ora c'è una sezione spazio che è sempre più più grande infine per chi volesse divertirsi ci sono anche giochi per adulti che anche se avete diciamo più di più di 15 anni possono piacere lo stesso quindi con ciò mi piace concludere e se avete altre domande curiosità o idee o considerazioni sono qui per risponderli grazie io ce ne avrei una se se è possibile quante le aziende o start up in questo momento sono da voi attenzionate o comunque finanziate allora noi come fondo abbiamo noi siamo nati nel luglio del 2020 è un fondo recente abbiamo fatto sette investimenti finora pari a 11,2 milioni di euro investiti e poi abbiamo altre cose che diciamo un corso di conclusione quindi facciamo tipicamente circa sette investimenti sei o sette investimenti all'anno e la quantità di imprese che guardiamo è di circa 500 business plan all'anno da cui estraiamo poi quelle su cui investire effettivamente quindi comunque il mondo imprenditoriale comunque di start up in questo settore è in continua crescita sì è molto vivo e appunto la cosa interessante che citavo prima è che si sta un po' ricombinando con altre industrie cioè tu quando vedi start up legate all'ambito spaziale possono essere anche imprese legate alla cyber security o ai materiali o a tematiche che sono correlate cioè che sono catalizzanti che creano opportunità per la space economy faccio un altro esempio concreto c'è una società su cui abbiamo investito che si chiama Caracol Advanced Manufacturing che sta anche anche loro sono vicino a Como loro fanno manifattura addittiva quindi anche questo è un tema vicino alla Maker Faire con tecnologia robotica quindi hanno delle braccia robotiche che producono dei pezzi di grandi dimensioni ad alta performance che vendono in settori non solo per ambito spaziale ma anche per l'automotive di alta qualità e per il nautico è una società appunto con un team giovanissimo sono molto bravi stanno facendo un sacco e è un esempio di start up italiana in questo ambito benissimo grazie non so se ci sono altre domande o considerazioni non so aspettiamo qualche altro secondo credo di no credo di no se non ci sono altri temi o altre questioni da approfondire ma credo che abbiamo visto veramente 360 gradi i vari aspetti che ci ha che ci ha presentato io la ringrazio moltissimo grazie per essere intervenuto ricordo a tutti che la presentazione del dottor Mauro è comunque registrata e la metteremo a disposizione sulla pagina di Maker Faire Academy e ringrazio tutti i partecipanti e al prossimo appuntamento del ciclo di webinar ancora grazie e buon lavoro grazie a voi a presto a presto grazie a tutti